Pochi mesi fa la notizia scioccante, Harley Davidson vuole esplorare nuovi segmenti di mercato Si parla di maxi enduro, di maxi naked, ma soprattutto di elettrico Elettrico, questo è proprio il protagonista assoluto del loro stand qui a ECMA 2018 Non solo novità di segmento, ma anche power cruiser tutte nuove, andiamo a scoprirle assieme Gran parte del futuro delle moto sarà elettrico, Harley ci crede E qui a ECMA 2018 porta la Livewire, già vista anni fa in versione concept, ma ora praticamente in versione definitiva Arriverà l'anno prossimo, i dati tecnici però non sono ancora rilasciati Una cosa però è certa, la Livewire proietta direttamente Harley Davidson nel futuro Qualcosa però della tradizione rimane infatti, la trasmissione è a cinghia Harley Davidson però non è solo futuro, ma anche tradizione Lo testimonia la FXDR, una power cruiser esposta qui nello stand È completamente nuova, si ispira fortemente al mondo delle dragster Lunga, bassa, la gomma dietro è da 240 mm, pazzesca Nella culla del suo telaio software invece batte il cuore bicilindrico AV Chiamato 114, probabilmente il più gratificante da guidare È capace di 160 Nm, pazzeschi, 1868 cm3 Che ci sei attaca! Sb Ci sei imp Unlike Grazie Lunga Ke inverted più Penn